Il nostro ragione era molto diverso, ma mi scappico in un certo numero di modi, cosa che poi invece è iniziare a pensare di correre un po' bene e fare qualche cosa in più, ma fa rabbia perché sicuramente, poi ce lo confermerà lui, nelle serie maggiore, i giocatori con qualità decisamente inferiore alle sue hanno dovuto capire, questo è, inizio a tu non smetti però, 36 anni con più.